Benvenuti in Accademia Carrara, il museo della città di Bergamo. È una pinacoteca di straordinaria bellezza. Un attraversamento della cultura visiva italiana dal Rinascimento all'Ottocento con capolavori della storia dell'arte del nostro paese. Dal Rinascimento all'Ottocento. Un valore molto forte della cultura del nostro museo è che tutte le opere sono state donate. 260 munifici, donatori, tra i quali il primo, il fondatore Giacomo Carrara, da cui prendiamo il nome, che ha donato la sua collezione. Ma poi nel corso del tempo altri collezionisti straordinari come Guglielmo Locchis, il conoscitore europeo Giovanni Morelli e per venire in tempi più recenti Federico Zeri. Abbiamo un patrimonio importantissimo non solo per la città e per la regione, ma il profilo delle raccolte a livello nazionale e oserei dire internazionale. Ora un servizio vi restituirà quasi un'anteprima di questo viaggio che farete nelle nostre collezioni e che restituiranno il fascino del luogo. Le collezioni sono conservate nella sede storica che è stata edificata nel 1800 e recentemente completamente rinnovata. Ora la parola al dottore Emanuele Vizzini. Emanuele Vizzini. Emanuele Vizzini. Emanuele Vizzini. Buonasera a tutti. Sono Emanuele Vizzini e da parte di Investitori Sgr e da parte del gruppo Allianz vi do il benvenuto a questa serata. Tappa del Grand Tour a Bergamo. Tappa molto particolare perché andiamo a visitare una pinacoteca che è anche accademia di belle arti. che custodisce tantissime opere di arti figurative che credo molti di voi avranno già avuto occasione probabilmente di vedere, ma che questa sera diventa estremamente interessante approfondire, naturalmente da remoto, io come voi, ma questa modalità ci consente magari di soffermarci e di ascoltare dettagli e aspetti che abbiamo magari in altre circostanze trascurato. Buona visita a tutti e do la parola a Michele Scolletta di Allianz Global Investors per un saluto anche da parte sua e per iniziare la visita. Grazie e a più tardi. Un caro saluto all'amico e collega Emanuele Vizzini ed un caloroso benvenuto a tutti voi. Ci appresteremo oggi a visitare l'Accademia Carrara di Bergamo, una visita all'interno di un altro dei capolavori italiani che Allianz ci dà la possibilità di visitare in questo momento ai noi in remoto, ma ci auguriamo quanto prima tutti possiate visitarla dal vivo. Allianz Experience. Allianz Experience non è soltanto una serie di attività che il gruppo Allianz mette a disposizione, dei nostri clienti, dei consulenti finanziari Allianz Bank o degli agenti Allianz, ma Allianz Experience è anche un canale YouTube al quale invitiamo tutti quanti voi a collegarvi in quanto vi dà la possibilità di rivedere tutte le iniziative che Allianz ha già attuato e ha messo a vostra disposizione e vi accorgerete che quanto Allianz fa per i propri clienti, per i propri collaboratori, per gli agenti e consulenti finanziari è un mondo talmente vasto da ricoprire cultura, finanza, spettacolo, dare in modo insomma a tutti quanti di partecipare ad una vita reale che in questo momento manca a noi tutti. Auguro a tutti quanti voi una buona visione, una buona continuazione e lascio la parola a dottor Paolo Plebani che ci introdurrà all'interno dell'Accademia Carala di Bergamo. Buona visione, buona continuazione. A dopo. Benvenuti in Accademia Carrara. Questa sera vi accompagnerò in una visita speciale all'interno delle sale del museo ad ammirare alcuni dei suoi capolavori più famosi. Vi invito sin da subito, se avete delle domande da rivolgermi, a scriverle molto tranquillamente in chat e naturalmente cercherò di rispondere ad ogni vostra curiosità. inizio da una delle opere più emblematiche, più note, la potete vedere accanto a me, è il retratto di Leonello d'Este di Pisanello. Un'opera importantissima per noi perché è un'opera rarissima. Pisanello è un pittore dell'inizio del Quattrocento, sta proprio all'ingresso del Rinascimento e di lui ci sono rimasti pochissimi dipinti su tavola, circa sette o otto a seconda degli studiosi che si sono occupati di questo pittore. E uno di questi dipinti è proprio qui in Accademia Carrara e questa sera lo potete vedere insieme a me. È un ritratto molto bello, molto intenso, in cui Leonello è raffigurato come in una medaglia antica, quindi di profilo, vestito di questo abito decorato, e Pisanello è veramente abile nel rendere la consistenza della materia, delle stoffe, ma anche dei fiori, delle rose che dietro il ritratto riempiono lo sfondo. Ora vi conduco da un'altra opera, da un'altra opera altrettanto importante. Si tratta della Madonna col bambino di Andrea Mantegna ed è significativo che quest'opera si trovi in questa sala proprio di fronte al Pisanello. Pisanello, a un certo punto della sua carriera, fu pittore di corte nella Mantova dei Gonzaga e qualche anno più tardi Mantegna lo sostituì in questo prestigiosissimo incarico. Quindi i due pittori, in qualche maniera, a Mantova si passano il testimone. Pisanello è ancora tutto immerso nel mondo tardogotico e cortese. Mantegna, invece, è un pittore moderno, un pittore del pieno rinascimento. E in questa bellissima Madonna col bambino, che è stata restaurata pochi anni fa dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, possiamo vedere una testimonianza tra le più importanti della sua pittura. È uno dei pochissimi quadri, vi racconto una curiosità, del pittore che non sono stati verniciati. Andrea Mantegna dipingeva, infatti, a tempera, su delle sottilissime e preziosissime tele di lino e quindi l'aspetto della sua pittura aveva questo carattere, diciamo così, quasi spento, volutamente di colori di terra, polverosi. Questo tipo di cromatismo non venne capito immediatamente e il restauro antiquariale del 7-800 spesso verniciò i suoi dipinti, cosa che per fortuna non è accaduto al quadro della Carrara, che quindi si presenta in qualche maniera come Mantegna stesso lo aveva dipinto. Ora vi invito a seguirmi nella prossima sala, la sala dedicata alla pittura veneta, dove vedremo un'opera di un altro pittore, un pittore molto importante che ci porta in un'altra zona dell'Italia. Eccoci qui davanti alla cosiddetta Madonna di Alzano, una Madonna col bambino dipinta da Giovanni Bellini nel momento migliore della sua carriera, verso la fine del Quattrocento, probabilmente intorno o all'inizio degli anni Ottanta del Quattrocento, ed è un'opera che ci racconta molto bene chi è stato Giovanni Bellini e quale tipo di pittura lo ha reso così celebre. Abbiamo visto poco fa La Madonna col bambino di Mantegna, ambientata su un fondo neutro. Questa di Bellini invece, vedete, presenta il gruppo, le figure sacre, all'interno di un bellissimo paesaggio naturale. E in qualche maniera anche la cromia della tavolozza si accende, il quadro viene inondato dalla luce naturale e prende una nuova vivacità. Questo effetto è dato anche dalla tecnica che usa Giovanni Bellini, che è diversa da quella di Andrea Mantegna. Se Mantegna usava la tempera, Giovanni Bellini ha imparato dai fiamminghi, molto probabilmente da Jan van Eyck, i segreti della pittura a olio, che permetteva di ottenere questi colori più lucidi, più smaltati e quindi all'apparenza più preziosi. Vi invito ora a seguirmi in un'altra delle sale del museo. Ora ci troviamo in una delle sale più significative all'interno di questo percorso nel museo. Un percorso che è in qualche modo un viaggio nella storia della pittura italiana, seguito dai suoi inizi all'incipit del Quattrocento fino alla fine dell'Ottocento, quindi alle soglie della modernità. E siamo di fronte a un dipinto di Sandro Botticelli, uno dei dipinti più singolari del museo, forse anche per questo formato e per queste dimensioni che sono strane per l'Accademia Carrara. Come vedrete, anche nel corso di questa visita, l'Accademia Carrara ha dei quadri di formato e di dimensioni piccole in genere, perché è un museo formato dalle donazioni di collezionisti privati che quindi lo hanno arricchito. In questo senso la sua storia è molto molto differente e molto particolare rispetto alle altre storie dei musei italiani. Perché il quadro di Botticelli è un quadro singolare? Perché sappiamo che era utilizzato come spalliera all'interno di una camera nuziale. Che cos'è una spalliera? Era né più né meno che l'inserimento all'interno di una boiserie linea, quindi di un rivestimento delle pareti linee, di una serie di quadri, spesso quadri, come in questo caso, dall'andamento narrativo, che raccontavano una storia. Non sappiamo chi fossero i proprietari di questa camera, ma è molto verosimile che fossero degli sposi. Infatti la storia di Virginia Romana che viene raccontata all'interno del dipinto è una storia di virtù femminile, quindi adatta a una giovane sposa che aveva preso appena marito. È la storia di una donna circuita e bramata da alcuni uomini che si oppone e che addirittura il padre, a costo di difendere l'onore, uccide con le sue stesse mani. È una storia quindi lontana dalla nostra concezione della femminilità e della donna, ma che ci racconta appunto di un altro tempo e di un altro mondo. Ora invece vi conduco ad uno dei capolavori che oggi si direbbe più iconici dell'Accademia Carrara. Seguitemi. Siamo sempre all'interno della sala dedicata alla Rinascimento nell'Italia centrale e siamo di fronte al San Sebastiano di Raffaello Sanzio. Quindi insomma uno dei pittori se non l'emblema diciamo così del mestiere di pittore. E anche questo è un quadro per certi versi misterioso all'apparenza semplicissimo nel suo soggetto che è la raffigurazione di uno dei santi più conosciuti e più utilizzati nella devozione rinascimentale San Sebastiano. Lo riconosciamo da questa freccia che diventa una sorta di grande penna tenuta in mano. Tuttavia l'aria un po' sdolcinata lo sguardo un po' affettato che questo personaggio ha ha fatto anche pensare che dietro questa figura di santo si cieli un ritratto di qualche personaggio che evidentemente per omonimia ha magari voluto farsi rappresentare nelle vesti del santo a cui era maggiormente devoto. È una cosa che succede non infrequentemente in questi anni e in questi decenni e che conferisce al quadro un aspetto molto particolare. Tenete presente vi racconto anche in questo caso una curiosità davvero significativa che molto probabilmente il segno dell'aureola è un rifacimento ottocentesco. Raffaello aveva dipinto il suo santo senza la consueta aureola ma chi restaurò l'immagine chi mise le mani su questo dipinto probabilmente all'inizio dell'ottocento sentì strana questa figura di santo senza la sua aureola e quindi la inserì. Naturalmente nell'ultimo restauro dell'opera di qualche anno fa si è deciso di tenere questa aureola in quanto anch'essa diventata documento storico insieme al dipinto. Ed ora vi chiedo di seguirmi in un altro contesto nella Venezia di primo cinquecento. ci troviamo in una delle sale più amate dai visitatori dell'Accademia Carrara è una sala infatti dedicata ad uno dei pittori più straordinari che sono ospitati qui in questo museo e che hanno caratterizzato la storia della pittura veneziana e la storia della pittura a Bergamo sto parlando di Lorenzo Lotto un artista che è stato per secoli un artista diciamo così sfortunato in quanto misconosciuto e che soprattutto nel novecento quindi nel secolo scorso è stato recuperato e rivalutato e la sua fortuna è decisamente salita di grado una decina di anni fa l'Accademia Carrara con il Louvre di Parigi e la National Gallery di Washington gli dedicarono una mostra di grande importanza e anche recentemente il Prado di Magritte e la National Gallery di Londra si sono soffermati con una bellissima mostra su questo pittore a questa mostra è andato anche il dipinto che vedete accanto a me una delle immagini e uno dei ritratti più intriganti del cinquecento italiano e forse non solo si tratta del ritratto di una gentildonna di una gentildonna bergamasca Lucina Brembati eppure l'identificazione di questo dipinto di questa di questa persona non è stata semplice fino alla fine dell'ottocento anzi per l'esattezza fino al 1913 si pensava che era una gentildonna qualsiasi e non si era riusciti a capire chi fosse l'identità poi uno storico bergamasco il bibliotecario della più grande biblioteca cittadina la biblioteca civica Angelo Mai si è accorto di alcuni dettagli rivelatori si è accorto che l'anello che porta al dito questa signora è presenta lo stemma della famiglia Brembati ma soprattutto si è accorta del straordinario rebus che Lorenzo Lotto ha inserito all'interno del dipinto il pittore ha inserito all'interno della luna le lettere C e I e in questa maniera ci ha indicato il nome del personaggio della gentildonna effigiata Lucina quindi insieme allo stemma dei Brembati che vediamo sull'anello riusciamo a ricomporre la sua identità Lucina Brembati un personaggio storico realmente esistito moglie di Davide Brembati grande notabile dell'epoca e grande committente di Lorenzo Lotto e ora vi invito a seguirmi nella prossima sala l'Accademia Carrara è un museo davvero ricco di opere sorprendenti come spero abbiate potuto vedere ma è anche un museo che permette un confronto tra pittori che sono vissuti negli stessi anni abbiamo appena raccontato della vicenda sfortunata di Lotto sfortunata in vita perché il pittore fu costretto a viaggiare in diverse città italiane tra cui appunto anche Bergamo molto più fortunato fu invece un suo coetaneo Tiziano Vecellio che vediamo in questa coloratissima Madonna col bambino se Lotto non godette di grande fama in vita ma è stato celebrato successivamente Tiziano invece fu sicuramente tra i pittori più importanti della sua epoca qui lo vediamo tuttavia in un quadro giovanile forse uno dei primissimi dipinti si contende questo titolo con un altro quadro un'altra Madonna col bambino che ha più o meno lo stesso formato che oggi si trova alla National Gallery di Washington e è un dipinto in cui possiamo vedere una continuazione di quel discorso iniziato da Giovanni Bellini che abbiamo visto nella Madonna di Alzano poco fa anche qui le figure sacre sono inserite all'interno di un paesaggio e il colore e la luce inondano completamente la scena il quadro di Bellini era un quadro grande di significativo formato questo pur nel piccolo formato riesce a concentrare una vivacità cromatica davvero singolare ed era soltanto il Tiziano degli inizi probabilmente quasi poco più che ventenne ora passiamo in tutt'altro contesto anzi ritorniamo a Bergamo seguitemi ritorniamo a Bergamo e ci troviamo all'interno di una sala che ospita soltanto dei ritratti e sono tutti ritratti di uno dei più grandi ritrattisti dell'Europa dell'epoca originario appunto di Bergamo in particolare di una piccolo borgo vicino alla città che è il borgo di Albino ho scelto questo dipinto per voi perché è uno dei dipinti che più amo all'interno del museo proprio per la modalità con cui questo anziano signore forse uno storico di Albino Pietro Spino che Moroni conosceva molto bene e che frequentava assiduamente l'ho scelto appunto per le modalità con cui questo personaggio è ritratto lo vedete è seduto su questa sedia probabilmente una dantesca appunto è il nome di questa sedia veste questo mantello foderato di pelliccia ha in mano un libro e con il dito tiene ancora il segno di dove stava leggendo e guarda verso lo spettatore un po' scocciato verrebbe da dire sembra quasi che il pittore lo abbia immortalato bloccandone diciamo così la lettura e lui si è un po' risentito è quindi una situazione psicologica molto particolare che Moroni riesce a cogliere con grande precisione in un'immagine per certi versi indimenticabile in fondo davanti a questo quadro credo che abbiamo un po' la sensazione di trovarci di fronte a un anziano nostro parente talmente è la naturalezza con cui si pone appunto di fronte allo sguardo del pittore e questa è proprio una delle caratteristiche più straordinarie dei ritratti di Moroni lo stesso Tiziano il pittore che abbiamo visto poco fa secondo le tradizioni e secondo le fonti letterarie raccomandava ai suoi amici bergamaschi di andare a farsi ritrarre proprio a Bergamo da Moroni perché sapeva fare dice Tiziano le persone al naturale così come erano senza paludamenti e senza ufficialità come si presentavano davanti al suo occhio quasi da psicologo e ora seguitemi prima di rispondere ad alcune delle domande che la regia mi segnala stanno arrivando vi invito a vedere questo breve filmato che abbiamo girato questa mattina che riguarda la storia dell'Accademia Carrara e i grandi mecenati che ne hanno caratterizzato la vita di oltre due secoli l'Accademia Carrara viene fondata nel 1796 dal conte Giacomo Carrara è un museo di collezioni e di collezionisti a questo gesto di generosità iniziale del conte Carrara che lasciava la sua importante raccolta di dipinti disegni e stampe in un edificio fatto da lui appositamente costruire per ospitare il suo museo a questo esempio del Carrara ne seguiranno molti altri sono passati poco più di due secoli dalla fondazione del museo ma sono stati ben 240 i legati i doni quindi che sono arrivati all'Accademia Carrara da parte di diversi appassionati e collezionisti sono piccoli doni di un dipinto di due dipinti sono doni di intere collezioni voglio ricordare in questa sala che è proprio dedicata ai collezionisti alcuni dei più importanti il primo appunto è Giacomo Carrara un uomo del Settecento un erudito uno studioso di storia e di storia dell'arte soprattutto che cercava di documentare attraverso la sua collezione la storia della pittura lombarda e veneta nonché bergamasca naturalmente un altro grande collezionista è il conte Guglielmo Locchis podestà di Bergamo legato agli austriaci e infatti la sua figura sarà un po' dimenticata con l'unità d'Italia Guglielmo Locchis aveva invece costruito una collezione di capolavori una collezione anche scelta come strumento di rappresentazione e di diplomazia dentro appunto la sua carriera politica una collezione che veramente ha alcune delle opere più importanti del museo Raffaello Bellini Carpaccio Moroni Fra Galgario ed altri ancora ed infine l'ultima collezione l'ultima grande collezione giunta in museo di cui vi voglio parlare è quella di Giovanni Morelli anche questa completamente diversa arrivata nel 1891 ed è la collezione di uno storico dell'arte tra i più importanti nell'Europa della fine dell'Ottocento e da lui infatti arrivano dei dipinti che sono proprio il frutto delle sue passioni di studioso arriva la pittura toscana arrivano i botticelli arriva lo straordinario ritratto di Pisanello che vedrete oggi nella visita e ora rispondo alle domande che mi arrivano dalla regia la prima è di Francesco da Milano che è stato colpito dalla descrizione del Mantegna e del Pisanello e mi chiede chi è il pittore di corte e che cosa fa pittori di corte sono diffusi sono frequenti naturalmente nel momento in cui ci sono le corti quindi nell'epoca soprattutto rinascimentale tra il quattro e il cinquecento pittore di corte era un pittore che lavorava in esclusiva per un signore i Malatesta a Rimini i Montefeltro a Urbino e appunto il caso di Pisanello prima e di Mantegna poi i Gonzaga a Mantova una particolarità proprio su Mantegna soffrì per tutta la vita di questa condizione di fatto privilegiata era ben stipendiato dai Gonzaga ma i Gonzaga avevano anche in esclusiva il suo lavoro e quindi spesso dovette rifiutare alcune proposte di lavoro perché i Gonzaga non avevano piacere che lavorasse anche per altre persone in qualche maniera era una pedina nel gioco politico e diplomatico che a loro maggiormente interessava una seconda domanda invece che mi arriva da Laura di Napoli mi chiede se il museo esponga soltanto dipinti o se l'Accademia Carrara non abbia anche altri oggetti in realtà nella esposizione aperta al pubblico abbiamo privilegiato i dipinti perché le collezioni in questo settore dell'Accademia Carrara sono davvero straordinarie c'è anche una sala che raccoglie le sculture della donazione molto importante avvenuta circa una ventina d'anni fa di Federico Zeri e sono appunto tutte sculture ma poi per il resto il museo è un museo di dipinti in realtà nei nostri depositi conserviamo un numero di oggetti davvero importanti abbiamo circa 3.000 disegni circa 7.000 stampe abbiamo naturalmente altri dipinti ne sono esposti più di 500 ma ne abbiamo nei nostri depositi climatizzati e regolarmente controllati altri 1.200 e poi abbiamo tutta una serie di altri oggetti una piccola collezione di porcellane dei peltri dei mobili un bellissimo manichino d'accademia settecentesco a figura naturale tanto per ricordare un oggetto particolare e davvero raro ovviamente come per tutti i musei naturalmente non è possibile esporre tutto e il compito del conservatore che è poi il ruolo che mi spetta all'interno del museo è proprio anche quello di selezionare scegliere di studiare i pezzi e possibilmente anche di rinnovare abbastanza di frequente l'offerta espositiva ora mi segnalano una domanda del dottor Vizzini dalla regia eccoci nuovamente da remoto e ringraziamo il dottor Plebani per averci condotto attraverso questa prima parte della visita nell'accademia ovviamente oltre alla spiegazione dettagliata delle opere ci ha incuriosito con alcuni cenni ai rapporti tra mecenatismo collezionismo e museo e quindi la domanda che viene spontanea da porre è quali sono i rapporti tra i collezionisti e il museo oggi e quali sono stati soprattutto in passato grazie al dottor Plebani e arrivederci a dopo a tutti voi grazie dottor Vizzini per la domanda il rapporto tra museo e collezionismo è un rapporto difficile da raccontare che ha percorsi a volte imprevedibili questo è capitato nel passato ma capita naturalmente anche oggi l'Accademia Carrara continua a ricevere doni da parte di appassionati d'arte da parte di collezionisti che a un certo momento della loro vita decidono appunto di condividere con i cittadini e con i visitatori del museo il frutto della loro passione possono essere piccole collezioni a volte può essere un oggetto donato per esempio in memoria di una persona scomparsa c'è capitato anche questo recentemente o in occasione di qualche compleanno o di qualche ricorrenza importante che si voleva in qualche maniera condividere con la collettività dicevo però che questi percorsi sono spesso imprevedibili nel passato ne sono capitate davvero di ogni tipo un fatto curioso e che in Carrara è molto conosciuto è per esempio che alcuni dipinti che sappiamo appartenevano alla collezione del fondatore Giacomo Carrara che arrivò nel 1796 sono poi usciti dal museo dopo la donazione per effetto di una vendita che i responsabili gli amministratori dell'epoca siamo nel 1835 decisero un numero significativo di opere e anche alcuni capolavori ma molti di questi dipinti sono poi rientrati in museo con altre collezioni con altri donatori quindi c'è stato come dire un andare e tornare di queste opere all'interno della nostra istituzione a dimostrazione appunto di come i rapporti tra museo e collezionismo non siano lineari ma si costruiscano in base alle occasioni alle vicende storiche e ai rapporti che il museo è in grado di stabilire con questi collezionisti adesso vi invito a proseguire con me la visita ci spostiamo un poco più avanti nella Lombardia del Settecento seguitemi Eccoci qui in questa sala dedicata alla ritrattistica Lombarda in particolare ad uno dei suoi grandi protagonisti Fra Galgario di cui vedete appunto qui un dipinto perché questo perché la ritrattistica è una delle caratteristiche che contraddistingue l'Accademia Carrara come museo l'Accademia Carrara è un museo di grandi collezioni ma è anche un museo di grandi ritrattisti abbiamo visto prima Moroni ora vediamo Fra Galgario e fra poco vedremo un altro grande ritrattista della stessa generazione di Fra Galgario Giacomo Ceruti ma mi soffermo un attimo su questo dipinto anche perché ha fatto il suo ingresso da poche settimane in museo in questo caso non è il dono di un munifico e generoso collezionista ma è un deposito quinquennale che lo Stato italiano in particolare la direzione regionale dei musei della Lombardia ha fatto recentemente al museo si tratta di un'opera infatti che lo Stato ha acquistato utilizzando lo strumento della notifica per l'alto valore artistico culturale e storico della tela e che ha deciso appunto di depositare in Accademia Carrara perché il ritratto è eseguito da Fra Galgario un artista di cui la Carrara conserva già soprattutto in questa sala numerose testimonianze e anche perché la storia di questo dipinto è legata a Bergamo molto probabilmente proviene da Casa Tassi a Bergamo alcuni hanno addirittura pensato che vi fosse raffigurato Francesco Maria Tassi il primo biografo e amico peraltro di Fra Galgario si tratta insomma di un'altra straordinaria testimonianza della qualità ritrattistica di questo artista che si aggiunge alle collezioni dell'Accademia Carrara il dipinto si confronta proprio su questa parete con un ritratto molto diverso non è più un gentiluomo elegantemente vestito ad essere raffigurato ma è una fanciulla quasi spaesata di fronte allo sguardo del pittore che tiene questo ventaglio rosa e che guarda appunto fuori dal quadro si tratta di una di un ritratto di Giacomo di Giacomo Ceruti questo pittore di origine milanese ma attivo in Lombardia negli stessi anni di Fra Galgario capace di donarci una delle immagini della fanciullezza più commoventi per certi versi un piccolo aneddoto molto beffardamente il suo primo proprietario Giovanni Morelli che la donò all'Accademia Carrara nel 1891 la teneva nel suo appartamento in via Pontaccio 14 a Milano proprio all'ingresso e la soprannominava appunto un po' beffardamente la Portinaia ora vi invito a seguirmi passiamo dal ritratto a tutt'altro genere pittorico ci occuperemo della natura morta eccoci di fronte alla natura morta con strumenti musicali di Evaristo Baschenis è un soggetto particolare la natura morta si sviluppa soprattutto nell'Italia del Seicento nell'Italia barocca quando i pittori non dipingono più soltanto per un committente spesso la chiesa o le grandi famiglie aristocratiche ma iniziano a dipingere per un mercato che gli chiede quadri per arredare le case ecco che allora nascono la natura morta il paesaggio la battaglia i cosiddetti generi della pittura e i pittori iniziano a specializzarsi iniziano a specializzarsi e a diventare bravi in determinate tipologie di dipinti Evaristo Baschenis è uno specialista della natura morte ha dipinto cucine ma ha dipinto in particolare delle nature morte di strumenti musicali per certi versi lo possiamo considerare l'inventore di questo sottogenere della natura morta nel senso che si specializzò e anche i suoi seguaci e i suoi allievi continuarono dopo la sua morte a realizzare natura morte di strumenti musicali sulla scorta del suo esempio qui ne vediamo uno degli esemplari più belli credo per la capacità di Bascheni di costruire una composizione apparentemente disordinata ma in realtà studiatissima sappiamo ad esempio che il pittore possedeva nella sua bottega numerosi trattati di geometria e di prospettiva e questo ci dice quanto le costruzioni le scene dei suoi dipinti fossero attentamente calibrate anche alcuni dettagli che vediamo la corda spezzata la polvere che si deposita sugli oggetti ci ricorda il tempo che corre ecco quel significato di memento mori di vanitas che spesso la natura morta acquisisce ed ora spostiamoci invece in un altro genere di grande fortuna nella pittura soprattutto del primo settecento e andiamo verso il canal grande di Canaletto seguitemi eccoci di fronte a questa raffigurazione a questa veduta molto celebre di una città altrettanto famosa Venezia in fondo questa tipologia di quadri le cosiddette vedute per distinguerle da paesaggio la veduta naturalmente è la vista cittadina mentre il paesaggio è la vista della natura in generale la veduta cittadina è in fondo l'antesignana della nostra cartolina per certi versi i committenti infatti di Canaletto erano i grandi aristocratici inglesi tedeschi e francesi ma soprattutto inglesi che arrivavano a Venezia in visita alla città e volevano portarsi a casa dei ricordi importanti di questa città così particolare così singolare e che così e che in maniera così significativa eccitava la loro fantasia ecco la fortuna di Canaletto che a un certo punto addirittura si trasferirà in Inghilterra a dipingere anche vedute della città di Londra di Venezia ha lasciato un numero di scorci incredibili tra cui appunto molti del Canal Grande che qui vediamo da Palazzo Balbi è una scena brulicante di vita e di persone che ci racconta appunto il mondo cosmopolita della Venezia del Settecento e ora ci spostiamo in un'altra sala molto particolare è una sala che a differenza delle altre viste finora ospita soltanto delle sculture e sono le sculture di uno straordinario collezionista Federico Zeri seguitemi Federico Zeri è stato un grande storico dell'arte è morto nel 1998 e ha lasciato all'Accademia Carrara con cui aveva collaborato nel corso della sua vita numerose volte ha lasciato tutta la sua raccolta di sculture che originariamente era custodita nella villa di Mentana poco fuori Roma dove solitamente abitava è stato un grande personaggio un grande storico dell'arte molto attivo in America negli Stati Uniti è stato nei trustees del John Paul Getty Museum ed è stato molto amico di Paul Getty aiutandolo a costituire la sua collezione negli ultimi anni della sua vita poi è stato anche in qualche modo un personaggio pubblico in Italia scriveva sui quotidiani in particolare sulla stampa ed era spesso ospite nei talk show televisivi soprattutto sui temi del patrimonio e della conservazione del patrimonio stesso grande collezionista di sculture tra quelle che ha lasciato all'Accademia Carrara mi interessa mostrarvi questo pezzo così particolare un pezzo particolare sia per il materiale con cui è realizzato si tratta di una porcellana una tecnica singolare della porcellana che si diffonde alla fine del settecento per riprodurre le grandi scoperte archeologiche che venivano scavate si tratta appunto del biscuit il suo esecutore è questo specialista della tecnica Giovanni Volpato originario di Bassano ma poi attivo per tutta la vita a Roma ed è proprio a Roma che esegue questo magnifico doppio ritratto in cui da un lato vediamo il grande pittore del neoclassicismo Anton Raphael Mengs e dall'altra parte il suo teorico biografo e amico l'ambasciatore spagnolo a Roma Nicolò de Azzara un ritratto come una sorta di Giano Bifronte che suggella per l'eternità l'amicizia e la relazione tra questi due grandi protagonisti della stagione neoclassica a Roma e ora vi conduco invece nelle sale dell'Ottocento dove vi invito a seguirmi l'Accademia Carrara che vedete oggi è una pinacoteca ma nel gesto di fondazione del conte Giacomo Carrara nel 1796 questo istituto non era soltanto una pinacoteca ma era anche un'accademia di belle arti ecco perché il nome di Accademia Carrara oggi la scuola di pittura non è più in questo edificio è stata spostata in un altro edificio costruito all'inizio del novecento nel 1914 per la precisione ma per tutto l'Ottocento in queste sale dove oggi vedete i dipinti vi erano anche gli studenti della scuola di pittura e uno degli studenti più importanti è stato appunto Giovanni Carnovali detto il piccio un altro grande ritrattista della serie di straordinari ritrattisti che la città di Bergamo ha donato alla storia della pittura italiana credo che lo si possa vedere molto bene da questo dipinto che raffigura una delle sue principali committenti la contessa Anastasia Spini è un ritratto davvero singolare e sorprendente sia per l'abbigliamento di questa signora che indossa questa cuffia per la presenza di questo uccello sul quale si sono interrogati gli studiosi per capire che cosa significhi all'interno del quadro senza in realtà arrivare a una conclusione certa e poi per il gesto davvero sorprendente di questa signora che tiene tra le mani una presa di tabacco da fiuto nell'altra la tabacchiera una signora quindi in qualche maniera dedita a questo vizio ma anche dedite alle virtù come ci indica il libro di preghiere che troviamo appoggiato sul tavolino accanto a lei un'immagine quotidiana sincera vera di una donna raffigurata senza abbellimenti con grande verità e sincerità di sguardo da parte di Piccio ora vi invito a seguirmi nuovamente abbiamo visto con Piccio uno degli allievi più importanti della scuola di pittura dell'Accademia Carrara ora invece parleremo forse del suo più celebre insegnante Giuseppe Pellizza da Volpedo vi precedo ci troviamo ora di fronte ad uno dei dipinti più commoventi del museo un dipinto che per Bergamo e per i bergamaschi durante il primo lockdown ha rappresentato un quadro quasi simbolo emblematico dipinto che si intitola appunto ricordo di un dolore è l'opera di uno dei pittori più celebri dell'ottocento italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo l'autore del quarto stato di questa monumentale tela che oggi si trova al museo del novecento a Milano ricordo di un dolore è invece un lavoro che appartiene alla sua breve stagione bergamasca breve ma importante perché con i due anni passati a Bergamo tra il 1887 e il 1889 Pellizza da Volpedo conclude la sua formazione a Bergamo aveva scelto di venire per seguire le lezioni di un grande maestro Cesare Tallone che all'epoca grande ritrattista che all'epoca appunto insegnava alla scuola di pittura dell'Accademia Carrara e in fondo quest'opera è proprio un simbolo della generosità degli amici dell'Accademia Carrara Pellizza da Volpedo lo esegue in memoria della morte della sorella morta appunto nel 1889 e lo donerà nel 1897 all'Accademia Carrara per il suo professore per celebrare il suo professore Cesare Tallone ma anche per celebrare i cento anni i primi cento anni di vita di questa istituzione è un dipinto straordinario che conclude il nostro percorso di visita all'interno del museo ma che apre verso la modernità proprio per la sua pittura e per lo sguardo dolorante così intenso di questa di questa donna ora vedo che mi arrivano alcune domande che mi segnala la regia e quindi lascio a loro la parola Mantegna Botticelli Gozzoli Raffaello sono alcuni dei nomi dei grandi artisti che popolano l'Accademia Carrara di Bergamo ma per capire a fondo la natura delle opere che hanno composto è necessario entrare ancora di più nelle motivazioni e in quanto gli artisti hanno voluto raccontarci beh per fare questo chi meglio dei critici d'arte possono introdurci all'interno delle opere d'arte beh so che c'è un rapporto speciale che lega l'Accademia Carrara di Bergamo con il critico d'arte Federico Zeri e mi piacerebbe approfondire anche questa curiosità con il dottor Prebani a lei la risposta grazie ringrazio ringrazio il dottor Scolletta per la sua domanda i rapporti tra Federico Zeri e l'Accademia Carrara sono rapporti che iniziano fin da quando Zeri è un giovane storico dell'arte Zeri ha studiato a volte anche attribuito identificato numerose opere dell'Accademia Carrara quindi il legame con questo museo è durato per tutta la vita a un certo punto negli anni alla metà degli anni Ottanta compila insieme a Francesco Rossi l'allora direttore uno dei primi cataloghi scientifici della collezione dell'Accademia Carrara il catalogo della raccolta Morelli e questo è un altro momento in cui i suoi legami con il museo si stringono in maniera particolare certamente amava anche l'Accademia Carrara per questo suo essere una sorta di piccolo museo del collezionismo quindi un museo prezioso e certamente nell'origine privata dell'Accademia Carrara che è il gesto appunto di Giacomo Carrara privato cittadino di dono alla città della sua raccolta trovava delle forti analogie con quel mondo del collezionismo americano in cui aveva lavorato per tanti anni e alla quale Zeri era particolarmente legato quasi nel vedere nell'Accademia Carrara una sorta di parallelo ad alcune grandi collezioni americane che poi i loro proprietari avevano destinato al pubblico e questo rapporto si conclude pochi anni prima della morte con la decisione appunto di lasciare per legato testamentario tutta la sua raccolta di sculture adducendo come motivazione proprio il fatto che l'Accademia Carrara museo ricchissimo nelle sue collezioni di pittura era secondo Zeri e giustamente mancanti invece nelle collezioni di sculture che quindi questo suo dono voleva colmare questa lacuna ora invece voglio rispondere a un'altra domanda che mi giunge da Cristina da Venezia e che chiede se nella in Accademia Carrara vi siano altri dipinti in cui è protagonista la sua città Venezia appunto in effetti nella parete dove abbiamo visto allestito il quadro del canaletto ci sono diversi altri dipinti in cui di cui Venezia è il soggetto e la protagonista vera e propria ci sono due vedute di Cannareggio dipinto da Bernardo Canal il padre di Canaletto e ci sono c'è una grande veduta di piazza San Marco di Francesco Guardi e almeno cinque se non più vedute piccole vedute di Venezia dipinte sempre da Francesco Guardi questo naturalmente perché Venezia proprio la Venezia del Settecento meta di quello che possiamo dire era una sorta di turismo antelitteram era poi anche un soggetto frequente della pittura e in particolare della pittura di veduta e quindi non soltanto tra i nostri dipinti esposti ma anche tra in alcuni di quelli che conserviamo nei depositi il Venezia come soggetto è piuttosto piuttosto frequente io vi ringrazio per avermi seguito in questa visita spero che sia stata di vostro gradimento e passo quindi la parola al dottor Vizzini grazie mille grazie al dottor plebani che ci ha permesso di fare un escursus nella storia dell'arte della pittura italiana con estrema attenzione al dettaglio e passando attraverso tante fasi e tante scuole la scuola lombarda quella veneta quella toscana del rinascimento insomma abbiamo visto veramente tanti gioielli della nostra cultura e della nostra pittura questa sera e credo sia anche la dimostrazione che un gruppo come il nostro come Allianz in qualche modo deve rivestire un ruolo simile a quello che l'aristocrazia e il mecenatismo del passato svolgevano nei confronti dell'arte oggi noi dobbiamo cercare con i limiti e le circostanze del presente di aiutare e sostenere la promozione dell'arte e della cultura naturalmente in primo luogo con i nostri clienti con i nostri amici e con chi ci sta più vicino nel naturalmente rafforzare questo augurio anche per il futuro sperando che ci siano occasioni molto presto di ripetere visite come quella di questa sera do la parola a Michele Scolletta rappresentante di Allianz Global Investors e a tutti voi do la rivederci ad una imminente prossima circostanza che immagino sia altrettanto attraente per tutti voi grazie buona serata purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa bellissima visita guidata all'Accademia Carrara di Bergamo rinnovo a tutti quanti voi l'invito a essere sempre connessi con Allianz Experience tramite i vostri agenti consulenti finanziari avrete modo di conoscere tutto il palinsesto che Allianz mette a vostra disposizione rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale YouTube Allianz Experience per rivivere questa ed altre esperienze che il gruppo Allianz vi mette a disposizione volevo fare un ringraziamento particolare al team eventi di Allianz coordinato da Stefano Lunghi che si avvale di ottimi collaboratori e all'ottima regia che come al solito è stata condotta con grande maestria da Dario Palermo un arrivederci alla prossima puntata di Allianz Experience